Tragico lutto a amici. È morto pochi minuti fa. Prima di iniziare il video ti ricordo di premere il tasto iscriviti e lasciare un mi piace. Grazie. Rimani fino all'ultimo, perché abbiamo una domanda per te. Un doloroso evento ha colpito in queste ultime ore la nota trasmissione di Amici di Maria De Filippi. Il noto professionista e vincitore di Amici ha vissuto un momento di profonda tristezza che ha sconvolto tutti coloro che lo conoscono. Stiamo parlando di Andreas Müller, il quale è stato recentemente colpito da un lutto familiare, una figura molto speciale nella sua vita. Il compagno di Veronica Peparini, Andreas Müller, ha condiviso con il pubblico la triste notizia attraverso un commovente messaggio da Dio dedicato al suo caro Salvatore. Questo messaggio ha profondamente toccato i cuori di chi lo segue. Attraverso le parole di Andreas, è stato possibile comprendere le circostanze della scomparsa e quanto il suo zio Salvatore fosse una figura di grande importanza nella sua vita. Andreas Müller ha condiviso il seguente pensiero sui social, hai lasciato la presa, non sei più riuscito a portare avanti questa battaglia contro un terribile nemico che negli ultimi anni ti ha sottratto la gioia di vivere e ha deciso di portarti via da noi troppo presto. Sei stata la persona più straordinaria che io abbia mai incontrato nella mia esistenza, non solo perché sei stato mio zio, ma sei stato il fratello e il figlio di tutti coloro che hanno avuto il privilegio di averti conosciuto in questa vita. Abbiamo bisogno di molta forza in questo momento. Ti voglio bene, zio Salvatore. Siamo spezzati, ma so che ora sei in un posto migliore. Scrivi anche tu nei commenti un messaggio di condoglianze ad Andreas. Ti ringraziamo per aver guardato questo video e se ti è piaciuto ti invitiamo a lasciare un bel mi piace e ad iscriverti al nostro canale.